Il voto è positivo, è sì, perché riteniamo che la Polizia Locale abbia le competenze per poter affrontare i casi più disparati, ma dobbiamo metterla nelle condizioni di farlo nel modo migliore, sia per la loro sicurezza, sia perché i loro interventi siano i più efficienti possibili. Credo che sia motivo d'orgoglio per la Polizia Locale essere messa nelle condizioni di espletare al meglio le loro capacità e quindi è un sì convinto. Grazie.